Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Casario, benvenuti a questo nuovo video. Siamo tornati, o meglio, sono tornato dalle ferie e finalmente posso avere il tempo di mettermi seduto con calma, tornare a fare un po' di analisi tecnica insieme, farvi vedere un po' come si approcciano i mercati finanziari per cercare di trovare un'opportunità, per cercare di trovare delle opportunità sulle quali applicare poi ovviamente i nostri trading system e i nostri sistemi, le nostre strategie, perché poi alla fine ragazzi il lavoro di un trader è questo, una volta che vi siete creati il vostro pacchetto di strategie non dovete far altro che stare lì e dedicargli il tempo che volete dedicargli, nel mio caso sapete che il trading per me rappresenta semplicemente una piccolissima parte della giornata, gli dedico poco, 10-15 minuti al giorno, perché devo semplicemente identificare le opportunità che il mercato mi offre, e di solito a me scattano degli alert che mi metto e nel momento in cui le vado a vedere so immediatamente qual è la strategia che devo applicare, quindi metto l'ordine al mercato e me ne scordo e avanti per la prossima opportunità e so benissimo quanto all'inizio sia difficile trovare questa costanza, perché all'inizio non si sa ancora leggere bene la price action, figuriamoci poi avere la strategia pronta, meccanica da applicare al mercato, però è qualcosa che costruite nel tempo, con questo video oggi voglio parlarvi di, andiamo sul mercato del forex, euro-dollaro, ho identificato davvero un'opportunità ghiotta, sia in termini di pip, perché sono 270 pip nel caso in cui vada in profitto, ma soprattutto è un'opportunità dal punto di vista del rischio rendimento, sapete quanto sto attento ogni volta a questo rapporto, perché è il rapporto che ci permette di sbagliare tante volte e comunque a fine anno portarci a casa un profitto. Quindi rimettiamo un po' insieme tutti quanti i concetti che vediamo, abbiamo visto nel mio canale e continuerete a vedere nei prossimi video, ma oggi li rimettiamo un po' insieme e mentre questi due piccolini qua continuano a dormire, vi lascio la parola ai grafici e al mio studio di analisi tecnica, come al solito se questi video vi piacciono lasciatemi un like, fatemelo sapere, lasciatemi un commento e ditemi invece qual è la vostra visione, se avete una visione diversa sul grafico rispetto a quella che ho io, cerchiamo di creare una community e come al solito non vi dimenticate di dare un occhio al gruppo che ho creato su Facebook, che serve proprio a scambiarsi opinioni, a creare più community, perché YouTube è un ottimo strumento per guardare video, ma se poi dovete commentare con altri, dovete appunto creare quell'interattività, ritengo che Facebook e i gruppi siano lo strumento più corretto, trovate l'indirizzo qua sotto alla descrizione del video, che dirvi? Buon trading a tutti e vi lascio all'analisi tecnica, ciao! Bene ragazzi, salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, a questo nuovo video, sono Marco Casario, se siete capitati qua per la prima volta, questo è il mio canale in cui parlo di trading, trading a 360 gradi. E oggi ragazzi facciamo, finalmente sono tornato dalle ferie, posso stare davanti al computer con tutta la mia attrezzatura, comodo, senza dover correre da una parte all'altra e quello che torno a fare è un pochino di analisi tecnica, classica ed avanzata, e quindi posso farvi vedere con degli esempi e delle idee. Ricordatevi sempre ragazzi, questi video non sono dei consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario, ma semplicemente condivido con voi delle idee a fini didattici, quindi il mio obiettivo è semplicemente farvi vedere qual è il mio approccio al trading e quale approccio al trading avere per cercare di usare il trading per crearsi un'entrata aggiuntivo in maniera costante e duratura nel tempo e cercare di lasciare un po' tutte quante le emozioni fuori. Oggi partiamo, visto che ripartiamo è lunedì, ottimo giorno della settimana, partiamo un po' dal forex e partiamo dal cross più interessante, più interessante perché è quello che ha maggiore liquidità, mi riferisco a euro-dollaro. E l'euro-dollaro ragazzi lo analizziamo da un po', lo analizzo anche praticamente ogni settimana nella newsletter di analisi tecnica, se non siete iscritti iscrivetevi, trovate il link qui sotto, perché ha creato, si sta muovendo in maniera piuttosto strutturata ed ha creato molte strutture di prezzo che insomma abbiamo visto nel tempo il mercato ha sentito più e più volte e cerco un attimo di risegnarvele per farvele vedere, in realtà è da un anno e mezzo che euro-dollaro si muove all'interno di un canale, ve lo posso far vedere qua, eccolo guardate, il canale all'interno di cui si muove euro-dollaro da ormai un anno e mezzo è quest'area qui, quindi con questi massimi qua e con questi minimi qua, quindi questa è l'area in cui si è mosso. Insomma è andato dall'1.15 come tasso di cambio a 1.040, quindi si è mosso tra questi due valori. E insomma molti investitori, molti trader sono andati un po' nel pallone, perché? Perché non avevano le strategie giuste per tradare un mercato che era fondamentalmente laterale. Vedete che sì, si è mosso, ma si è mosso stando sempre qui dentro. Ecco perché dico ragazzi, bisogna avere più di una strategia a portafoglio, bisogna avere strategie differenziate che vi permettono di fare trading in qualsiasi situazione di mercato. E questa è la situazione di euro-dollaro. Poi a un certo punto, che cosa è successo? Guardate, qua a inizio 2017 sono stati toccati i minimi. E poi piano piano ha iniziato questa timida salita l'euro-dollaro. Vedete qua, salita, ritracciamento, salita, ritracciamento, nuovi massimi. Vedete che ha sempre creato nuovi massimi, massimi sempre maggiori, eccoli qua, e minimi sempre minori. Quindi qua si è mosso in maniera, diciamo, decisamente strutturata, appoggiandosi di volta in volta strutture importanti che aveva già sentito nel passato. Bene, fatemi fare un po' di zoom, perché andiamo a vedere come comportarsi adesso, in questo momento storico. Allora, siamo qui nell'ultima parte, concentriamoci su questa, e guardiamo un po' che cosa sta facendo euro-dollaro. Guardate, qui c'è stato un primo impulso rialzista, ritracciamento, secondo impulso rialzista, anche se piuttosto corto, e poi che cosa è successo? Un nuovo ritracciamento. Questo che cos'è, ragazzi? A che cosa assomiglia? A quello che in analisi tecnica avanzata si chiama ABCD pattern. Quindi c'è stato primo impulso, secondo ritracciamento, secondo impulso rialzista, secondo ritracciamento. Ora, andiamo a vedere un po' con Fibonacci che cosa è successo dal punto di vista dei ritracciamenti. Eccolo qua, guardate. Bellissimo. Guardate quanta armonia in questo movimento. Vedete come il punto C, dove si è andato a formare, proprio sul livello 38,2 di Fibonacci. Ok? Quindi, primo impulso, ritracciamento sul livello 38,2, che ha usato come supporto. Il prezzo è salito e ha creato il nuovo massimo. Andiamo a vedere questo nuovo massimo, dove si è andato a incastrare, dove si è andato a fermare. E fatemi tracciare qua. Fatemi cancellare un po' di disegni. E fatemi fare anche un po' di zoom, così vedete meglio, ragazzi. Ecco qui. Guardate. È andato a finire sul livello 161,8 di Fibonacci con il ritracciamento. Posso anche calcolarmi l'inversione di Fibonacci sull'impulso, da qui a qui, per andare a vedere. Esatto. Vedete? Guardate che bella... qui che bel cluster di Fibonacci, si dice in gergo tecnico. Cioè quando più livelli di Fibonacci insistono sulla stessa soglia di prezzo. Qui abbiamo il livello 127,2 dell'inversione di Fibonacci di questo impulso rialzista. E abbiamo il livello 161,8 del ritracciamento del pullback. E guardate il mercato, infatti, che cosa ha fatto? È arrivato con questo spike qui e ha girato. Ha girato per una flessione. Molto interessante. Quindi adesso che cosa ci si può aspettare? Qui, insomma, c'erano già varie strategie con cui agire. Io qui, in questo movimento, avevo almeno due strategie diverse con cui entrare al mercato. Ma vediamo che cosa può succedere adesso. Allora, adesso può succedere la seguente cosa. Andiamo a vedere questo ritracciamento innanzitutto dove... Ops, ho sbagliato a tracciare i Fibonacci. Scusate perché lo dovevo tracciare dal punto più basso del ritracciamento al punto più alto. Bene. Questo ritracciamento qua, questo ritracciamento che vedete da qui a qui, vedete che si è appoggiato con lo spike sul livello 61,8. Anche se in realtà adesso è incastrato tra il 38,2 e lo 0,50. Però è un bel ritracciamento. E adesso quello che può succedere è, ragazzi, che il prezzo usi questi livelli di Fibonacci per rimbalzare e proseguire il trend rialzista. Quindi potrebbe proseguire il trend rialzista che aveva iniziato già qui a luglio. Proseguirlo anche a settembre. Oppure, che cosa potrebbe fare? Potrebbe continuare a scendere ancora, quindi non fermarsi qua, e andare a posizionarsi dove? Guardate. Guardate un po' qui... A questo stavo facendo attenzione ultimamente. Guardate, ragazzi, qua, in questa fascia qui, temporale, le candelle che cosa hanno fatto? Li vedete tutti questi spike, queste ombre? Quando il prezzo praticamente che cosa ha provato a fare? Ha provato a, mettiamoci una bella linea, ha provato a scendere sotto questo valore. Stiamo intorno all'1,17,25 come valore. Ma, anzi, fatemi cambiare a time frame 4 ore, così vi faccio vedere anche come guardare altre opportunità. Fatemi togliere un po' di zoom. Eccolo qui. Vedete come il prezzo ha sentito questa struttura qui? A 1,17. Ok? Soglia anche psicologica, ragazzi. Guardate quante volte ha provato a romperla. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ci ha sempre rimbalzato, non ci è mai riuscito. Come dire, il mercato non ha voluto far scendere il tasso di cambio di euro-dollaro sotto questo valore qua. 1,17. E poi che cosa è successo? È successo che dopo averci rimbalzato così tante volte e dopo aver, eccolo qua, creato questo canale all'interno del quale il prezzo è stato per praticamente tutto agosto, a fine agosto che cosa ha fatto? Il prezzo, boom, impulso, primo impulso rialzista, seconda candela che ha rotto i massimi e il prezzo poi non ha fatto altro che salire. Vedete che adesso potrei applicare, guardate qua, impulso rialzista, ritracciamento e adesso appunto potrei aspettarmi, come dicevo prima, che il prezzo continui verso l'alto, viceversa, che scenda e si vada a ripoggiare qua. E voi potreste dirmi, sì, ok Marco, ma quindi quale delle due ipotesi devo seguire? Devo seguire l'ipotesi che mi dice che il prezzo va verso l'alto o l'ipotesi che mi dice che il prezzo torna qui per poi rimbalzare e andare verso l'alto? O viceversa continuare a scendere, ragazzi? E qui mi fermo, perché questo dipende dalle vostre strategie. Questo, ragazzi, una cosa è fare analisi, identificare le opportunità che offre il mercato, identificare le opportunità di mercato. E questo si fa con l'analisi che stiamo facendo adesso, se fate analisi tecnica ovviamente. Ma tutt'altro discorso, cioè una volta identificate le opportunità, poi dovete applicare le strategie che fanno parte del vostro trading plan, che vi siete costruiti e andare ad applicarli in maniera costante ogni volta che identificate un'opportunità, ok? Per esempio, ragazzi, per esempio, che vuol dire che non è un consiglio finanziario, vuol dire che non dovete seguire quello che sto dicendo, ma che semplicemente sto condividendo con voi un'opinione personale, ok? Strettamente personale, che quindi vale come la vostra. Quello che si potrebbe pensare di fare, ovviamente ipotizzando che l'ipotesi sia di una prosecuzione al rialzo di euro-dollar, che questo fosse un ritracciamento, guardate, che va da qui a qui, un ritracciamento che ha toccato il 61.8. Bene, quello che potreste fare se aveste una strategia per tradare questo tipo di opportunità, è andare a definire quella che si chiama una buy zone, cioè qual è la zona in cui entro, qual è il mio segnale di entrata. Ok, il segnale di entrata potrebbe essere il ritracciamento che va dal livello 31.8 e 61.8 di Fibonacci e il prezzo ci è entrato, e quindi potreste pensare di aprire una posizione long, ma immaginate di aver aperto una posizione long qui, e posizionare il vostro take profit dove, di nuovo ragazzi, dipende dalle vostre regole, ok? Una regola potrebbe essere, per esempio usando Fibonacci, potrebbe essere quella che usa il ritracciamento del pullback, diciamo per esempio sul primo livello a 127.2 e qui potremmo metterci sotto al minimo di questo pullback, ecco qui ragazzi, guardate che bella operazione che viene fuori, vengono fuori 270 pip in take profit e vengono fuori quanti erano? No, 60 pip in stop loss. Questa ragazzi è ovviamente una bellissima opportunità di trading. Quindi se foste entrati sul ritracciamento qua, mettendo il take profit qui sopra intorno all'1.21.50, avreste un'operazione con il rischio rendimento di 1 a 4.5. Che cosa vuol dire rapporto rischio rendimento 1 a 4.5? Vuol dire ragazzi che se per il vostro money management, seguendo il vostro profilo di rischio, immaginate di avere investito per quest'operazione 100 euro, ok? Quest'operazione nel caso in cui andasse a profitto, prendereste un guadagno di 450 euro. Praticamente il rischio rendimento si traduce in questo modo, rischiando nel caso in cui venga toccato lo stop loss, quindi per 60 pip, convertendo 60 pip in 100 euro, nel caso in cui questa ipotesi di trading, seguendo appunto questa strategia che abbiamo ipotizzato e che è solo un esempio, ragazzi non è un consiglio finanziario assolutamente lontano, lungi da me, io ho il mio portafoglio, ho le mie strategie, le insegno ai miei corsi, questi video sono solo video per farvi capire qual è l'approccio giusto al trading, l'unico che vi permette nel tempo di guadagnare. Quindi vuol dire che se quest'operazione va in perdita, io non è che sono rovinato, mi metto a piangere, mi dispero, no non me ne frega niente, è un'operazione che è andata in perdita, la perdita è fisiologica, è normale perdere nel trading, ok? Ma ogni volta che si verifica su un mercato finanziario questo setup, io so che devo entrare con uno stop loss posizionato lì e uno take profit posizionato su un livello preciso, questo si chiama trading system meccanico ed è l'unico che toglie le emozioni, la parte psicologica, quella che vi dice, oddio che devo fare, oddio no fammi spostare lo stop loss, no no no, il take profit non va qui, adesso il prezzo si muove contro di me, ho paura. Ragazzi, no, non si può far trading in questo modo, è un'ansia mostrota e si compiono errori altissimi. Ma applicando invece strategie precise, meccaniche, e questa è una di queste, con questo rapporto rischio rendimento, capite bene che avendo un rapporto rischio rendimento 1 a 4 e 5, voi potete praticamente sbagliare 3 operazioni, su 4 operazioni sbagliarne 3, 3 in stop loss e una in take profit, quindi su 4 operazioni 3 vanno in stop loss e una va in take profit, e voi comunque siete ancora in guadagno, è lì la matematica del trading ragazzi, il trading alla fine si riduce in statistica, quindi se avete un rischio rendimento alto, ovviamente la strategia ragazzi deve essere testata nel tempo e lo ripeto in tutti quanti i miei video, se siete nuovi a questo canale e state guardando questo video come primo video, vi prego di andarvi a vedere quelli vecchi per capire un po' qual è il mio approccio al trading, ma questa opportunità ci permette, questa strategia, questo esempio di strategia ci permetterebbe di sbagliare 3 volte su 4, cioè di prendere 3 perdite su 4 e di rimanere in profitto, perché dico questo? guardate, allora abbiamo detto, se perdo, se perdo, perdo 100, se vinco, vinco 450, immaginiamo 4 operazioni, guardate, 4 operazioni, qui ci mettiamo le operazioni perse e qui le operazioni vinte, allora la prima operazione la perdo, 100, la seconda operazione la perdo, 100, la terza operazione la vinco, 450, la quarta operazione la perdo, andiamo a fare un po' il totale, il totale è ho perso 300 euro e ne ho vinte 4,50, 300 meno 4,50 quanto fa più 150 euro, capite bene che, ragazzi, con questi numeri vi basta avere una ragione, una volta su 4, vuol dire il 25% delle volte avere ragione, e aver torto il 75% e portarvi a casa comunque un profitto di 150 euro investendone 100, ovviamente, cioè, stiamo in una situazione in cui avete una strategia, lasciatemelo dire, un po' di merda, ragazzi, perché una strategia che perde il 75% delle volte probabilmente è una strategia che può essere ottimizzata, ma per ora, lasciamo i numeri così come stanno, voi avreste in mano una strategia che vi permetterebbe di aver ragione una volta su 4 e comunque portarvi a casa un profitto. Ragazzi, il trading è questo, è matematica alimentare, algebrica, un po' di statistica, ma è soprattutto avere delle strategie robuste testate nel tempo che voi portate avanti e ripetete costantemente tutti quanti i giorni, tutte le volte che si identifica un'opportunità a mercato. Quindi il vostro lavoro da trader poi si sposta semplicemente nell'identificare le opportunità, perché quando l'avete identificata l'opportunità, come questa qua che stiamo guardando, bene, a quel punto non vi interessa più nulla, perché a quel punto dovete solo applicare la strategia, e non vi interessa più se andate in per, stare lì davanti al grafico a dire, oddio, speriamo che il prezzo si muove nella mia direzione, speriamo che vado in profitto, no, a questo punto quello che vi interessa è semplicemente andare avanti e giorno dopo giorno identificare le opportunità e applicare le strategie. Bene ragazzi, che dire, bentornati dalle vacanze, sono contento finalmente di aver fatto, essere tornato a fare video un po' più tecnici, noi ci vediamo prestissimo, cosa dirvi se non, buon trading a tutti, ciao!